qui c'è una pseudopulizia lagunetta questo canale di scolo ma ancora meglio guardate finisce così in 13 non togliendo neanche il bordo che c'è laterale quindi l'acqua continuerà a scendere da qua in mezzo alla strada poi una parte affine là dentro portandosi questa terra che ora viene più facile a cadere dentro quindi alla prima pioggia sarà della monta piena posso continuare su tutta la reggia trazzera qua delle frazioni reggia trazzera erice mazzara erice località fontana salsa grazie 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 grazie